Quarta audienza alla cittadella giudiziaria nell'ambito del procedimento sul presunto scambio tra voti e appalti al comune di Salerno che vede imputati l'ex assessore alle politiche sociali del comune di Salerno Nino Savastano e l'ex imprenditore delle cooperative sociali Fiorenzo Zoccola. Entrambi ai domiciliari ed entrambi coinvolti nel processo nato dall'inchiesta della procura sulla passata gestione delle gare d'appalto con relative proroga e per la cura del verde pubblico e della manutenzione in città. Gare che secondo l'ipotesi accusatoria erano state affidate da una serie di cooperative sociali alcune delle quali secondo la procura erano di retta emanazione o sotto il controllo dell'imprenditore salernitano in cambio di un sostegno elettorale. Siamo ancora nella fase che si può definire tecnica del processo la quarta tappa di un procedimento che afferisce ancora la fase preliminare le quale si dovrà decidere sull'eventuale utilizzo delle intercettazioni che saranno oggetto di perizia. Quelle conversazioni captate dagli investigatori finiti agli atti del procedimento. Dalla fase interlocutoria del processo l'ultima udienza la terza del 14 febbraio scorso aveva trattato solo dell'ammissione delle prove di accusa e difesa si passa comunque ad un momento che potrebbe essere dirimente per il proseguo dello stesso. L'ammissibilità o meno delle intercettazioni infatti diventa strategica per accusa e difesa segnando un punto a favore dell'uno dell'altra parte nel caso in cui fossero usate o meno. L'udienza è fissata alle 15 di questo lunedì 4 aprile per Nino Savastano difeso dall'avvocato Giovanni Annunziata e per Fiorenzo Zoccola difeso dagli avvocati Gaetano Manzi e Giuseppe della Monica.